Fatturazione elettronica è il servizio di Aruba per creare fatture, parcelle, note di credito e debito con la stessa facilità con cui compili un documento cartaceo. Consente inoltre di inviare fatture a privati, pubbliche amministrazioni e clienti finali e di conservarle a norma dopo l'invio. Potrai ricevere anche fatture dai tuoi fornitori, il tutto attraverso un'unica applicazione web. Utilizzabile online da qualsiasi dispositivo, dovrai occuparti solo di inserire i dati necessari per la tua fattura. A tutto il resto penserà Aruba, che si occuperà Della generazione dei file fatture in formato XML Della posizione di firma digitale e delle verifiche sulla compilazione Della trasmissione al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate Della conservazione a norma dei tuoi documenti Sarai sempre informato sullo stato del tuo archivio grazie al sistema di notifiche e report Fatturazione elettronica è il servizio semplice e completo per aziende, ditte individuali, artigiani, commercianti, libri professionisti E tutti coloro che hanno una partita IVA e devono creare e inviare fatture elettroniche Grazie alle sue caratteristiche, la fatturazione elettronica di Aruba ti consente di semplificare, velocizzare e automatizzare la maggior parte delle attività Lasciandoti più tempo da dedicare al tuo lavoro Cosa aspetti? Cogliere opportunità Scopri la fatturazione elettronica di Aruba